Maria Sklodowska, Marie Curie, nacque a Varsavia nella seconda metà dell'Ottocento e morì in Francia circa 60 anni dopo. Scienziata geniale e indipendente, ebbe numerosi riconoscimenti accademici dal mondo scientifico, tra cui due Nobel. Maria è l'unica donna ad averne ricevuti due e l'unica persona in assoluto ad averli ricevuti in rami diversi. Si laureò alla Sorbona in fisica e in matematica. Più avanti negli anni le fu assegnata la cattedra di fisica per la prima volta a una donna presso la stessa università. Gioca un ruolo fondamentale non solo come scienziata, ma anche per il suo impegno civile e medico verso i soldati durante la guerra. Morì, secondo la medicina ufficiale, a causa dell'eccessiva esposizione alle radiazioni. Dedicò la sua vita a cercare di liberare l'umanità dall'oppressione provocata da ignoranza e paura. Militò per portare la conoscenza a tutte e tutti coloro che la desideravano, fino agli strati più umili della società. Fu intransigente, inflessibile, soprattutto con se stessa. La sua vita era dedicata alla ricerca e al servizio. Non si concesse mai frivolezze né perdite di tempo. In realtà non era tratta da nient'altro che il suo laboratorio. Non brevettò mai il risultato delle sue ricerche. Lo donò liberamente al mondo. Mai la sfiorò l'idea di poterne ricavare un tornaconto economico. Marie è stata definita da Einstein non la donna, ma la persona più intelligente del mondo, includendo dunque anche gli uomini. Quando si iscrisse alla Sorbona, le ragazze erano solo tre ogni cento matricole e di certo non avevano vita facile, ma lei sapeva di essere venuta al mondo per dimostrare scientificamente l'esistenza dei mondi invisibili. E dopo la seconda laurea e il matrimonio con Pierre, si immerse completamente nella sua ricerca. L'ambiente maschilista francese la avversava in quanto straniera e donna e usò ogni mezzo per screditarla, anche la sua vita privata, che le costò quasi la perdita del secondo Nobel. Dopo la morte di Pierre, infatti, Marie ebbe una profonda amicizia con il collega Paul Langevin e fu appunto il carteggio privato tra loro ad essere usato per gettare fango su di lei. Marie diede un grosso contributo all'emancipazione femminile. Nell'istituto del radio da lei diretto furono accolte molte giovani ricercatrici, rispinte dal fatto che la patrona era una donna. Marie stimolò la creazione in Francia di un ministero della scienza, la cui direzione fu affidata a un'altra donna, sua figlia Irene. I movimenti per l'emancipazione femminile le devono molto e la portano in palmo di mano. Di Marie Curie è possibile ascoltare sul nostro canale anche Vita di Madame Curie, la sua biografia scritta dalla figlia minore Eve, è letta da me e per chi fosse interessata la storia di Marie Curie scritta da me nel mio libro Antenate e la visione delle donne sul mio canale personale YouTube The Vanavision. Di entrambi lasciamo il link in descrizione. La scuola delle donne è lieta di offrire la lettura, fatta da Giorgia, delle lettere di Marie Curie, edite da Lorma Editore. Tuttavia abbiamo intenzionalmente omesso la lettura della corrispondenza privata tra Marie e Paul Langevin, quella che fu strumentalizzata dalla stampa francese appunto per screditare questa grande donna. Siamo infatti convinte, in primo luogo, che siano cose non di interesse pubblico e in secondo luogo che la nostra scuola debba sostenere il valore delle donne e non contribuire in nessun modo alla sua diminuzione in un mondo dove già è abbastanza dura la lotta femminile per sostenere ancora oggi i sabotaggi del patriarcato. Da Devana, buon ascolto. Marie Curie, La vita non è facile, e allora? Lettere di un genio forte e curioso. Marie Sklodowska e Pierre Curie si conoscono nell'estate del 1894. Tra la giovane e brillante studiosa e il già affermato professore di otto anni più grande nasce subito una simpatia, alimentata dagli interessi e dagli obiettivi comuni. Passa appena un anno e si sposano. Il loro rapporto si rinsalda quindi nelle sale dei laboratori parigini, dove divengono presto colleghi e dove nel 1898 scoprono ben due nuovi elementi. Il polonio, così chiamato in onore del paese natale di Marie, che ha francesizzato il proprio nome, e il radio, destinato a un'ambivalente fortuna mondiale. Tuttavia, il 19 aprile 1906, la vita di Pierre finisce bruscamente a causa di un incidente stradale in cui muore schiacciato da una carrozza. Per Marie è un colpo durissimo, che riesce a superare pur tramite le fatiche, soli immergendosi ancora di più nella ricerca scientifica. Trascorro l'intera giornata al laboratorio. Mi trovo meglio lì che in qualsiasi altro luogo. È sempre più forte in me la consapevolezza che la nostra vita insieme si è ormai irrevocabilmente conclusa, mio Pierre. Non riesco a pensare più a nulla che sia capace di darmi un po' di gioia, tranne forse la ricerca scientifica. Ma in verità, neppure quella. Poiché, seppure ottenessi qualche risultato, sarei triste per il fatto che tu non sarei qui a condividerlo con me. Questo laboratorio, tuttavia, mi dà l'illusione di potermi aggrappare a un frammento della tua vita, di custodire le prove della tua esistenza. Ho trovato un piccolo ritratto che ti raffigura accanto alle tue bilance. È la parola di un dilettante, non certo un capolavoro. Cioè, nonostante, il tuo volto è illuminato da un sorriso così affabile che non posso non guardarla senza tremare vive, commozione. Le viene offerto il posto del marito alla Cattedrale Fisica Generale e lei accetta la prima donna a ricoprire un ruolo di insegnamento alla Sorbona. La prima lezione sarà il 5 novembre 1906. Esaminando i progressi compiuti dalla fisica nell'ultimo decennio, si resta stupiti da quanto essi abbiano mutato le nostre idee sull'elettricità e sulla materia. Quest'evoluzione è stata determinata in parte dalle dettagliate ricerche sulla conducibilità elettrica dei gas e in parte dalla scoperta dallo studio dei fenomeni della radioattività. Ieri ho tenuto la prima lezione in sostituzione del mio Pierre. Che tristezza e che disperazione. Ti saresti rallegrato di vedermi nei panni di un professore alla Sorbona e io sarei stata altrettanto felice di fare questo per te. Ma farò al posto tuo, Pierre. Riesci a immaginare qualcosa di più crudele? Quanto sofferto e come sono depressa. Ho la sensazione che in me si sia estinta ogni capacità di vivere. Non mi resta più nulla se non il compito di allevare le mie figlie e il desiderio di proseguire il lavoro che ho scelto. E forse la volontà di dimostrare al mondo che con lei che hai amato vale davvero qualcosa. Ho anche la vaga speranza, molto vaga in verità, che tu in qualche modo sia consapevole dei tormenti che travagliano la mia vita, di quanto io mi stia impegnando. Spero che mi saresti grato per ciò che sto facendo e che mi possa essere più facile ritrovarti nell'altro mondo che in questo, se esiste davvero. Attualmente questa è l'unica preoccupazione della mia vita. Non posso più pensare di continuare a vivere solo per me stessa. Non lo desidero e non ne ho la capacità. In me non sento più alcuna forza vitale né alcuna carica giovanile. Non so più cosa siano la gioia o il piacere. Domani compirò 39 anni. Probabilmente mi resta pochissimo tempo per realizzare almeno una parte del lavoro che ho iniziato. 11 dicembre Circa 15 anni fa, Herribe Carell scoprì le radiazioni dell'uranio e due anni dopo lo studio di questo fenomeno venne steso alle altre sostanze, prima da me sola e poi da Pierre Curie insieme a me. Questa indagine ci porta presto alla scoperta di nuovi elementi chimici, le cui radiazioni, pur analoghe a quelle prodotte dall'uranio, erano di gran lunga più intense. Chiamai radioattivi tutti gli elementi che emettevano simili radiazioni e la nuova proprietà della materia rivelata da queste emissioni ricevette il nome di radioattività. Grazie alla scoperta di queste nuove potenti sostanze radioattive, in particolare il radio, lo studio della radioattività poteva avanzare con stupefacente velocità. Le scoperti si susseguirono l'una dopo l'altra e in rapida successione risultò evidente il graduale sviluppo di una scienza del tutto nuova. L'Accademia svedese ha avuto la benevolenza di celebrarne la nascita, attribuendo il premio Nobel per la fisica ai primi studiosi di questo campo, Henri Becquerel, Pierre Curie e Marie Curie 1903. Questa nuova scienza si è sviluppata in maniera costante e con un andamento crescente e adesso, soltanto 15 anni dopo la scoperta di Becquerel, ci troviamo di fronte a un intero mondo di nuovi fenomeni che appartengono a un campo che, nonostante lo stretto legame con quelli della fisica e della chimica, presenta delle caratteristiche proprio molto ben definite. In questo campo, l'importanza del radio dal punto di vista delle teorie generali è risultata decisiva. La scoperta e l'isolamento di questa sostanza hanno fornito la prova della mia ipotesi, secondo la quale la radioattività è una proprietà atomica della materia che può essere sfruttata per cercare nuovi elementi. Questa ipotesi ha condotto alle attuali teorie delle radioattività in virtù delle quali possiamo supporre con certezza l'esistenza di circa 39 elementi che non c'è dato di isolare o individuare mediante metodologie chimiche. Osservando le cose da questa prospettiva, si può affermare che l'isolamento del radio costituisce la pietra angolare dell'edificio della scienza della radioattività. Inoltre, il radio rimane lo strumento più utile e potente nelle ricerche sulla radioattività. Credo sia per questo genere di considerazioni che l'Accademia Svedese ha voluto farmi il grande onore di assegnare a me il premio Nobel per la chimica di quest'anno. Primo agosto 1914 Cara Irene, cara Eve Sembra che le cose si stiano mettendo male. Non so se potrò partire perché non sarò pronta prima di lunedì e i collegamenti potrebbero venire interrotti. Non vi agitate, siate calme e coraggiose. Se la guerra non scoppia subito verrò da voi lunedì. Altrimenti se la mia partenza fosse impedita resterò qui e vi farò tornare il prima possibile, ovvero a mobilitazione avvenuta, quando i treni potranno trasportare i civili. Comunque sia, la comunicazione ferroviaria sembra già difficile. Ieri alla Garmonparnasse c'era una calca e un'agitazione fuori dal comune. Vi abbraccio teneramente. Vostra madre Hai visto Irene che il povero Juarez è stato assassinato? È una cosa assai triste e odiosa. Parigi, 6 agosto 1914 Mia cara Irene, ho ricevuto solo oggi la tua lettera angosciata di lunedì e ho provato una grande tristezza. Sì, coraggiosa tesoro mio. Anch'io vorrei farvi tornare qui ma per il momento è impossibile. Spero di riuscirci tra una decina di giorni. Per adesso il paese è tutto rivolto alla mobilitazione. Il resto verrà poi e ciascuno avrà il suo compito da svolgere. Nell'attesa siete pazienti e accumulate energie arriva al mare in previsione di impiegarle a breve. La guerra tra Francia e Germania è stata dichiarata. Gli inglesi hanno dichiarato guerra ai tedeschi per avere violato la neutralità del Belgio. In questo momento i tedeschi attraversano il Belgio ingaggiando scontri armati. Il piccolo e coraggioso Belgio non ha concesso loro di passare senza difendersi. Tutti i francesi sono ottimisti e pensano che la lotta sebbene aspra avrà esito positivo. Ma quale massacro dobbiamo attenderci e che follia è stata averlo scatenato. Dobbiamo sperare che stavolta i tedeschi vedano dove li ha trascinati il loro governo autocratico. Ti abbraccio teneramente, si paziente e studia e sta avvicinata a sorella al posto mio, tua madre. Parigi, 6 settembre 1914. Mio dolce tesoro, sono tornata a Parigi dopo essere stata via due giorni per lavoro, non dalle vostre parti, ahimè, ma nei vintoni di Bordeaux. Mi rammarica sapere che hai avuto noie per la tua nazionalità. Non prendetela troppo per queste cose, ma fa quel che puoi per chiarire le idee e la persona con cui hai a che fare. Puoi fare dei problemi di fisica, Fernand. Se non potete impegnarvi per il presente della Francia, preparatevi per il suo futuro. Dopo la guerra, ahimè, tante persone mancheranno all'appello e ci saranno necessità di sostituirle. Studiate matematica e fisica meglio che potete. La storia della radiologia di guerra offre un esempio sorprendente dell'insospettata ampiezza che in certe situazioni può avere l'applicazione di scoperte di ordine puramente scientifico. I raggi X, le cui stupefacenti proprietà, sono state applicate fin da poco dopo la loro scoperta all'esame dei corpi umani e alla terapia. Sotto questo aspetto hanno però avuto un utilizzo limitato fino all'epoca della guerra. La grande catastrofe che si è scatenata sull'umanità e che ha accumulato un numero spaventoso di vittime ha fatto sorgere per reazione l'ardente desiderio di salvare tutto quel che era possibile salvare, di sfruttare tutti i mezzi per risparmiare e proteggere delle vite umane. Da allora ciò che era sembrato difficile e problematico è divenuto fattibile e ha ricevuto una soluzione immediata. Il materiale e il personale si sono moltiplicati come per incanto. Tutti coloro che non capivano hanno ceduto e compreso. Coloro che ignoravano hanno appreso. Coloro che erano indifferenti si sono votati alla causa. Nel giro di pochi anni si è venuto a costituire un sistema organico nel quale i medici e i chirurghi hanno iniziato a ritenere ovvio ricorso ai raggi X. Il diritto all'esame radiologico o al trattamento con i raggi X è stato quindi sancito come un diritto generale incontestabile per tutti i malati. È così che la scoperta scientifica si avvia a conquistare tutto il suo campo d'azione naturale e a raggiungere appieno le proprie potenzialità di utilizzo. Tra non molto lo sforzo generale porterà i primi frutti e la radioterapia troverà in Francia una prima organizzazione e in questo modo conseguiremo il grande risultato umanitario che costituisce uno degli sbocchi della scoperta scientifica del radio. Cosa possiamo dedurre da questa fortuna insperata giunta insieme alle radiazioni che ci sono state rivelate per la prima volta alla fine del XIX secolo? Sembra che nessun altro spettacolo possa rendere più viva la nostra fiducia nella ricerca scientifica disinteressata e aumentare il culto e l'ammirazione che le sono dovuti. Questo nuovo sorgente di luce, frutto del paziente lavoro dello scienziato nel suo laboratorio, un giorno diffonderà tutto il suo chiarore sull'umanità, portando consolazione e sollievo dalle sofferenze e inoltre contribuirà in tempo di pace a semplificare la vita e a spianare la strada verso un maggiore benessere fisico, morale e intellettuale. L'intera comunità civilizzata ha il dovere categorico di vegliare sul campo della scienza pura dove vengono elaborate le idee e le scoperte, di proteggerla e incoraggiare i lavoratori dando loro il supporto necessario. È solo in questo modo che una nazione può crescere e perseguire un'evoluzione armoniosa verso un ideale lontano. Sento una grande apprezzione all'idea di entrare in un gruppo tanto esteso per sostenere una campagna politica. So che le persone avvezze a esprimersi pubblicamente si riuniscono volentieri in gruppi, ma questo è esattamente quello che non desidero fare poiché in contrasto con i miei consetti metodi di lavoro. Avendo l'abitudine di prendere la parola in pubblico solo per trattare questioni scientifiche, ritengo molto importante che ogni opinione espressa pubblicamente e che coinvolga la mia responsabilità sia del tutto sincera e conforme al mio pensiero. Sono consapevole di come l'onesta espressione del proprio pensiero possa apparire, nell'epoca in cui viviamo, un dovere civile, ma credo che gli scienziati daranno un maggiore contributo e presteranno un servizio migliore restando fedeli ai loro abituali metodi d'azione. Condivido appieno la sua aspirazione a un mondo in cui governino la pace e la fratellanza, tuttavia in questo caso non posso unirmi a lei perché il suo punto di vista non coincide esattamente con il mio. Di certo ho orrore della guerra e deploro ogni situazione in cui l'intelligenza venga subordinata alle ragioni della forza bruta. Ma la più sofisticata raffinatezza intellettuale non è affatto garanzia di un'equa comprensione dei problemi nazionali e sociali, la cui pacifica soluzione è tuttavia la condizione per il generale progresso dell'umanità. Uomini le cui menti speculano ai più alti livelli di astrazione e producono opere ammirevoli hanno dimostrato di essere pronti a schierarsi al fianco di ogni tipo di nefandezza se commessa a favore del proprio paese. Uno studioso che firma il Manifesto dei 93 ne ha umanamente più distante di un cittadino qualsiasi in grado di impegnarsi per avere giustizia non solo per sé, ma anche per gli altri. Nella forma del soppello colgò una difficoltà e sono un vincolo affatto i firmatari a condividere alcuni elementari principi di giustizia sociale internazionale. L'accordo risulterebbe quindi illusorio dal momento che alla prima occasione riefiurerebbero i contrasti. Per un'utile azione comune è invece necessario che vi sia accordo su problemi specifici l'invasione del Belgio, il siluramento dell'Ustitania, la devastazione della Francia, la ricostituzione della Polonia, l'indipendenza dell'Irlanda, ecc. All'amico Einstein, 27 maggio 1922 Mi piacerebbe sapere se ha accolto questo invito. Credo infatti che il suo consenso al pari del mio sia assolutamente necessario se vogliamo avere una pur minima speranza di raggiungere qualche risultato reale. Questa è anche l'opinione dei nostri amici comuni. Ho l'impressione che la società delle nazioni, per quanto ancora imperfette, rappresenta una reale speranza per il futuro. A Einstein, 7 luglio 1922 La sua lettera ha causato in me un profondo disappunto. Proprio l'esistenza di correnti di pensiero pericolose e deleterie obbliga a lottare contro di esse. E da questo punto di vista lei può esercitare un'influenza notevole, impiegando il suo coraggio anche senza dover combattere per la causa della tolleranza. Credo che il suo amico Rathenau, del cui tragico destino mi rammarico profondamente, l'avrebbe esortata a compiere almeno uno sforzo in favore di una pacifica collaborazione intellettuale internazionale. Non potrebbe correggere la sua decisione. 16 giugno 1926 Mi limiterò a dire qualche parola sulla rilevanza della scienza per l'umanità. Se talvolta questa importanza ha potuto essere messa in discussione, è perché lo sforzo dell'umanità verso le sue più alte aspirazioni è imperfetto, come tutto ciò che è umano e che è stato più volte deviato dal suo corso dalle spinte dell'egoismo nazionale e dell'involuzione sociale. Tuttavia è grazie a questo sforzo quotidiano verso il progresso scientifico che l'umanità si è elevata all'emminente rango che occupa sulla Terra. All'interno della nostra commissione dobbiamo essere tra coloro che con Rodin si inchinano davanti alle laboriose fatiche del pensiero e che con Pasteur credono saldamente che la scienza e la pace trionferanno sull'ignoranza e la guerra. È vero che in occasione della recente guerra il livello spiritale dell'intellettuale di diversi paesi si è rivelato spesso inferiore a quello della massa meno istruita, ma ciò dipende dal fatto che in ogni forma di potere risiede a un pericolo quando essa non è disciplinata e indirizzata verso gli scopi superiori che le sono degni. Nessuna iniziativa può dunque essere più importante di quelle che tendono a stabilire dei legami internazionali tra i più attivi elementi pensanti dell'umanità in particolare tra i giovani da cui dipende il futuro del mondo. Molti amici mi dicono, non senza valide ragioni, che se Pierre Curie e io ci fossimo preoccupati di tutelare i nostri diritti avremmo tenuto i mezzi necessari a creare un istituto del radio più indipendente, senza doverci imbattere in questi ostacoli che hanno rappresentato un handicap per entrambi e che continuano a esserlo per me. Tuttavia rimango convinta della bontà della nostra scelta. L'umanità ha certamente bisogno di persone pratiche capaci di ottenere il massimo dal loro lavoro e senza dimenticare il bene generale di salvaguardare i propri interessi, ma ha anche bisogno di sognatori, a tal punto attratti dai libri esiti di un'impresa da considerare impossibile prestare la minima attenzione ai propri benefici materiali. In effetti, questi sognatori non meritano la ricchezza poiché non l'hanno desiderata. Tuttavia, una società ben organizzata dovrebbe assicurare a questi lavoratori tutti i mezzi necessari a raggiungere i loro obiettivi, all'interno di una vita a sgombra da preoccupazioni materiali e votata alla ricerca disinteressata. 1785 Massachusetts Avenue, Washington, 23 maggio 1921 Mio caro Presidente, desidero esprimere la mia profonda gratitudine per l'accoglienza che mi ha riservato alla Casa Bianca lo scorso venerdì 20. In qualità di capo del potere esecutivo delle più grandi democrazie del mondo, una democrazia sulla quale tutta l'umanità fonda le sue speranze, lei ha reso omaggio non solo alla mia vita e ai miei lavori, ma anche al disinteressato spirito di sacrificio e all'amore per la libertà che ha sempre ispirato i figli migliori della mia Polonia d'origine e della mia Francia d'adduzione. Il regalo che le donne del suo paese hanno fatto attraverso di me alla causa della scienza è rappresentativo della nobile generosità che da sempre caratterizza la nazione americana. Sento che l'America mi ha donato il suo cuore, io le do il mio impegno a lei e ai suoi figli. Con l'augurio di una vita lunga e serena, mio caro Presidente mi creda, fedelmente sua, Marie Curie. Novembre 1920, alla sorella Boronia. I miei problemi riguardano soprattutto gli occhi e le orecchie. La vista si è indebolita e probabilmente si può fare ben poco per rimediare. Per quel che concerne l'udito, sono perseguitata da una specie di ronzio continuo a tratto insopportabile. Sono molto preoccupata, tutto ciò potrebbe disturbare o addirittura rendere impossibile il mio lavoro. Forse il radio ha a che fare con questi problemi, ma non lo si può dire con certezza. Ginevra, 25 luglio 1929. Cara Yvette, Eccomi a Ginevra, da lunedì mattina e al lavoro tutti i giorni fino al pomeriggio. Sono riuscita al mattino a fare un bagno al lago, acqua a 22 gradi. Ho potuto nuotare nonostante il braccio dolorante. Non ho accettato alcun invito e quando i miei colleghi erano impegnati in pranzi o cene di rappresentanza, ho preferito frugali passi solitari. È il modo che mi consono e che mi consente di resistere alla stanchezza. Qui c'è grande preoccupazione per l'esigenza di riorganizzare il lavoro della commissione e dell'istituto, che è stato oggetto di numerose critiche. Pensa quanto possono essere agitate gli animi. Per quel che mi riguarda, credo che il lavoro internazionale sia un impegno assai gravoso, ma che al contempo sia indispensabile farci d'abitudine e portarlo avanti al prezzo di grandi sforzi per rinunciare a un atteggiamento troppo personalistico. È lo spirito che dovrebbe emergere qui a Ginevra. Se tutti fossero pronti ad accogliere un tale punto di vista, allora la nostra sarebbe davvero un'opera di grande portata per il futuro. Ti abbraccio e ti prego di salutare tutti i nostri amici. Me. Il 4 luglio 1934, Marie Curie muore. Prima, nel sanatorio di Passì, fa in tempo a pronunciare parole sulla bellezza della scienza. Sono tra coloro che pensano che la scienza possega una grande bellezza. Uno scienziato nel suo laboratorio non è solo un tecnico, è anche un bambino messo di fronte a fenomeni naturali che lo affascinano come una favola. Non dobbiamo far credere che l'intero progresso scientifico possa essere ridotto a dei meccanismi, a delle macchine, a degli ingranaggi, sebbene anch'essi abbiano a loro volta una propria bellezza. Io non credo che nel nostro mondo lo spirito di avventura rischi di sparire. Se intorno a me, scienziata, vedo qualcosa di vitale, è proprio questo spirito di avventura che sembra indistruttibile ed è una forma di curiosità. Cosa saremo senza la curiosità dell'intelletto? Proprio questa è la bellezza e la nobiltà della scienza. L'inestinguibile desiderio di ampliare le frontiere del sapere, di braccare i segreti della materia e della vita senza avere idee preconcette sulle loro attuali ripercussioni. Fine